Uomini e donne, anticipazioni, Luca rifiuta Alessia la manda via, Maria a centro studio. Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e donne? Le nuove anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Luca D'Affrè, il quale si ritroverà a dover fare i conti con una scelta importante legata al percorso della corteggiatrice Alessia. Spazio anche alle vicende di Armando che, nel corso dei prossimi appuntamenti destinati al Daitime di Canale 5, si ritroverà protagonista di un acceso confronto in studio con la padrona di casa, Maria De Filippi. Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Luca si ritroverà a prendere una decisione importante legata al suo percorso in trasmissione. Il tronista, infatti, preferirà essere schietto e sincero nei confronti della redazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, svelando di avere degli amici in comune con la corteggiatrice Alessia. E, proprio questa situazione, porterà il giovane tronista ad eliminarla definitivamente dal cast di pretendente presenti in studio. Il motivo di questo sono rifiuto da parte di Luca D'Affrè. Le anticipazioni su Uomini e donne, rivelate da Lorenzo Pugnaloni, raccontano che il tronista ammetterà di non aver gradito alcune domande di troppo da parte di questo amico che condivide con Alessia. A quel punto, avendo capito che la situazione poteva diventare antipatica per lui e metterlo in difficoltà con la redazione di Uomini e donne, ha preferito chiudere definitivamente la frequentazione con Alessia, che a quel punto è stata mandata a casa definitivamente dal giovane tronista. E poi ancora, le nuove anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che ci sarà spazio anche per un confronto diretto da Maria De Filippi e Armando Incarnato. Dopo i sospetti di Aurora su Armando, dove Incarnato viene accusato dalla dama di avere un manager alle sue spalle. Ecco che tra il cavaliere e la padrona di casa del talk show ci sarà spazio per un confronto a centro studio. Per l'occasione, quindi, Maria De Filippi lascerà la sua abituale postazione sugli scalini per guardare negli occhi Armando e ascoltare le sue motivazioni. Il confronto si preannuncia particolarmente serrato, dato che Aurora continuerà a ribadire di essere certa delle accuse mosse nei confronti di Armando e, ad un certo punto, il cavaliere scoppierà anche in lacrime. Come si evolverà la situazione? Armando riuscirà a chiarire la sua posizione? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni. Grazie. 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 Grazie.